Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2 per un nuovo incredibile What If, ovvero una nuova storia alternativa del mondo di Dragon Ball. Nello specifico, oggi vedremo la vera storia alternativa di Cooler, che insieme a Freezer è diventato l'imperatore dell'universo. Ovviamente questa storia è legata a Dragon Ball AF e ci andrà a svelare quali sono le origini di Cooler e Freezer come imperatori dell'universo. Sarà davvero tanta roba, quindi finalmente ritornano un po' i What If spin-off legati a Dragon Ball AF, che come sapete è la mia serie What If principale, che arriva ogni domenica alle 14.30. Infatti il prossimo episodio sta per arrivare, vi voglio davvero carichi al massimo, poiché King Cold darà davvero il meglio di sé. Prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi ora al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche se non l'avete ancora fatto. Se volete tanti altri What If, superiamo ora almeno i 5.000 like, pollice in su, adesso! Ed eccoci quindi finalmente nella selezione dei personaggi. Qui abbiamo un po' di personaggi che ho mostrato in live. Vi ricordo che sono in live quasi tutti i mercoledì, c'è davvero da divertirsi, ci sono tante belle mod, ma noi ritorniamo ovviamente a Dragon Ball AF. Abbiamo visto un po' di personaggi vari, King Cold si è anche trasformato, ma siccome avete lasciato tanti like, più di quelli richiesti all'episodio di Dragon Ball AF più recente, nel quale abbiamo visto appunto tutta questa storia legata a Freezer, Cooler e così via, voglio assolutamente accontentarvi. Quindi oggi parleremo di Cooler. Quello che vedremo oggi sarà un universo alternativo molto diverso da quello che tutti conosciamo. C'è qualcosa di simile rispetto alla storia originale di Dragon Ball Z, ma c'è qualcos'altro e forse tanto altro che cambierà. La prima cosa che vediamo è che Cooler ha accompagnato Freezer sul pianeta Namek, quindi praticamente nella saga in cui Goku si trasforma per la primissima volta in Super Saiyan. Proprio per questo motivo quindi andremo a sfidare Goku, trasformabile in Super Saiyan, con la speranza che si trasformerà, beh, vedremo cosa accadrà, ma questa volta ragazzi costui verrà accompagnato da Vegeta, poiché in questo universo alternativo egli non è stato sconfitto. Le cose sono andate in maniera molto diversa, sia Cooler che Freezer sì, sono comunque molto cattivelli, lo sappiamo bene, e i due sono spesso in competizione. Combatteremo ovviamente sul pianeta Namek, non è la sua versione distrutta però, poiché ragazzi, ripeto, qui le cose stanno andando in maniera un po' diversa, non c'è stata quella battaglia incredibile a causa della quale il pianeta sta per distruggersi. Qui ragazzi, sembra che Cooler e Freezer, essendo insieme, hanno la situazione completamente nelle loro mani, e sarà da vedere se Goku riuscirà a trasformarsi in Super Saiyan qui. È chiaro che Krillin, in ogni caso, è stato eliminato sia da Cooler che da Freezer, quindi ha fatto una brutta fine comunque. Però, di base, Goku è arrivato alla trasformazione in Super Saiyan anche perché comunque Vegeta era stato sconfitto, quindi voleva difendere anche un po' quello che era quell'orgoglio Saiyan. Vedremo se nel corso di questa battaglia Goku riuscirà a trasformarsi in Super Saiyan per... ricordandosi... Eccolo, nemmeno il tempo di dirlo! Ebbene sì! Ricordandosi quindi che un po' tutti i suoi amici sono stati sconfitti, parliamo ovviamente di Krillin in realtà, quindi solo lui, e poi del fatto che anche Vegeta ormai è quasi in fin di vita. Goku quindi, come al solito, ragazzi, non ci delude. In ogni caso, questo è un elemento che, se ci fosse stato meno, non avrebbe cambiato quelle che sono le sorti di questo Wotip, poiché vedrete, ragazzi, quello che sta per succedere. Dovrete prepararvi davvero allo shock incredibile. Quindi Goku, sì, risulta un Super Saiyan. Risulta potentissimo e quasi inarrestabile. Ma questa volta i nemici da affrontare sono ben due. Vegeta, tra l'altro, sicuramente non è messo bene. Vegeta, ragazzi, come sappiamo, nei confronti di Freezer prova non solo paura, ma non è in grado di sovrastare quella che è la sua potenza, quindi viene praticamente distrutto quasi subito. E Cooler e Freezer, essendo insieme, mettono in serie difficoltà Goku, che da come notate, sembra incominciare a sentire un po' la stanchezza. Non riesce nemmeno a scagliare una Super Kamehameha, che di sicuro avrebbe fatto davvero tantissimi danni a questo nemico. Quindi, ragazzi, questo per Cooler e Freezer è uno dei tanti passaggi, uno dei tanti tasselli fondamentali per eliminare qualunque tipo di avversario che, un giorno o l'altro, avrebbe potuto fermare quella che è la conquista dell'universo di questi due grandi combattenti, dietro ai quali, ovviamente, ricordiamolo, c'è King Cold, in italiano, Rick Cold, colui che, appunto, sta tessendo la fila di tutto questo progetto incredibile di conquista di tutto l'universo. Ragazzi, come sappiamo, l'imperatore, però, dell'universo può essere uno solo. E Cooler e Freezer sono due. Questo, chissà che tipo di ripercussioni potrà portare in futuro. I due sono molto legati oppure i due, nel complesso, potrebbero allontanarsi sempre di più spinti dalla loro sete di conquista? Goku e Vegeta, infine, sono stati sconfitti. Purtroppo, i più potenti guerrieri Z sono stati completamente eliminati. È chiaro che quelli restanti sono ancora sul pianeta Terra, ma non dimentichiamoci un aspetto molto importante. In pratica, Piccolo e Gohan, che inizialmente dovevano essere sul pianeta Namek, sono riusciti a fuggire. E questa è una cosa molto importante. Cooler e Freezer, infatti, non si accontentano di quello che hanno fatto. Vogliono assolutamente concludere il proprio lavoro. I due arcosiani, quindi, riescono a conquistare il pianeta Namek. Quindi, ragazzi, tutti i presenti diventano loro schiavi. Riescono a trovare le sfere del drago ed entrambi richiedono un potere davvero incredibile non solo per Cooler e Freezer, ma anche per Red Cold, in modo tale che tutti e tre insieme possano davvero conquistare e poi dominare l'intero universo. Per quale motivo, però, non hanno chiesto la vita eterna? Beh, ragazzi, gli arcosiani vivono per davvero tantissimi, tantissimi anni e soprattutto non ne hanno necessità, poiché sono davvero, forse ora, i più potenti di tutto l'universo. Anche perché qui non arriveranno combattenti come Majin Buu e così via. Loro, ragazzi, domineranno qualunque cosa. A Cooler e Freezer, però, manca una cosa da fare, assolutamente da non sottovalutare, ovvero andare sul pianeta Terra ed eliminare i nemici che sono riusciti a scappare. Stiamo parlando di Gohan e Piccolo, ma, convinti del proprio potere e sicuri delle proprie forze, aspettano un certo numero di anni. Solo dopo tanto tempo, Cooler e Freezer si decidono ad andare sul pianeta Terra. Ci dirigiamo quindi qui, direttamente sul pianeta Terra ed è qua che, purtroppo, accadrà forse qualcosa di molto, molto spiacevole. Ragazzi, ormai ci siamo. Cooler, da come avete notato, sembra aver sorpassato anche suo fratello Freezer, poiché ha questa forma molto, molto potente. Ricordiamoci, infatti, che di base, Cooler è riuscito ad ottenere una trasformazione in più rispetto al proprio fratello. Quindi, di base, dovrebbe anche essere più potente, chi lo sa. Però, da come abbiamo visto poi, almeno in Super, Freezer è riuscito a ottenere la sua golden form. Ma, tra l'altro, chissà, se Cooler e Freezer stanno davvero utilizzando quel potere che hanno richiesto al Drago Polunga, direttamente su una Mac. Quindi, ragazzi, vedremo, vedremo se riusciranno davvero a conquistare l'intero universo pianeta dopo pianeta. Sarà davvero tanta roba, ragazzi. Davvero tanta roba. Perché, mi caso, sto già pensando a quello che nel complesso sarà l'episodio di domenica e voi non avete idea dell'ipicità, delle battaglie incredibili che vedremo, perché, da come avete visto, direttamente su Dragon Ball F, Cooler è molto potente. È stato sconfitto, ma di base ora c'è King Cold. ragazzi, King Cold forse sembra poter anche superare i propri figli. E chissà di quanto, chissà se forse davvero l'arcosiano più potente di tutto l'universo che potrà effettivamente riprendere nelle proprie mani quella che è la vera conquista, il dominio di tutto il suo regno. Mamma mia, ragazzi, come mi caso così dal nulla. La battaglia, ovviamente, procede in una maniera molto semplice sia per Cooler che per Freezer. Di base, ragazzi, loro riescono a cavarsela in maniera molto semplice poiché non è che abbiano fatto veri allenamenti ma comunque sono dei grandi colossi. Freezer a livello di statura forse non tanto ma Cooler possiamo dire invece di sì che da come notate si scatena e riesce addirittura a distruggere quelle che sono le difese di Gohan. Ragazzi, la vendetta degli arcosiani è realtà. Gohan, quindi, ragazzi, viene definitivamente eliminato. purtroppo il figlio di Goku è stato sconfitto quindi i suoi allenamenti sembrano non essere serviti a un gran che. Quindi, ragazzi, da come notate anche Piccolo sembra essere davvero in seria difficoltà. Cooler e Freezer hanno messo in ginocchio tutti i combattenti dell'intero pianeta e sembra che per loro inevitabilmente non ci sia alcun tipo di speranza. Costoro riusciranno secondo voi a salvarsi? Riusciranno a salvare tutti i terrestri? Beh, in ogni caso sarà da vedere. Ma Cooler spietato colpisce con una supernova Cooler che distrugge completamente i propri nemici. Quindi, di base, sembra proprio che Gohan e Piccolo siano stati sconfitti con la conseguente sconfitta di tutti i guerrieri Z. Cooler quindi, tramite l'aiuto di suo fratello Freezer è riuscito a conquistare anche il pianeta Terra. Sembra che costui non abbia rivali se non proprio suo fratello. Come sappiamo Freezer vuole sempre primeggiare, vuole essere sempre più potente e vuole essere colui che deve dare il colpo di grazia al nemico. Quindi questo è stato il primo vero momento di incomprensione, di crepe nel rapporto tra questi due fratelli che hanno sempre combattuto insieme. Freezer incomincia ad imbazzire totalmente ed è talmente convinto di voler diventare l'unico imperatore dell'universo che addirittura attacca suo fratello Cooler in una vera battaglia mortale. Essendo passati molti anni però sia Cooler che Freezer sono diventati molto ma molto più potenti ed entrambi hanno ottenuto nuovi poteri. Per Cooler ovviamente abbiamo la sua potentissima Golden Form eccola qui e lo stesso non dimentichiamocelo vale anche per il potentissimo Freezer e sarà anche da vedere cos'è che accadrà ora. Qualche idea se ci pensate ce l'abbiamo di già se avete visto uno degli ultimi episodi usciti di Dragon Ball App ma questa battaglia però soprattutto per Recold per il padre dei due è completamente inaccettabile. Recold ha pianificato molto bene quella che è la conquista dell'universo e ogni piccolo tassello importante e fondamentale non può assolutamente essere perso non ci devono essere errori altrimenti la conquista stessa dell'universo o per meglio dire il dominio di tutto l'universo può essere in qualche modo compromesso e non possono quindi assolutamente pensare di agire in questo modo Recold quindi è completamente disperato comprende molto bene che per come sta procedendo la battaglia che è davvero spietata uno potrebbe davvero essere sconfitto in maniera permanente potrebbe davvero morire quindi ciò ragazzi non deve assolutamente essere permesso nel frattempo però prima che Recold intervenga la battaglia continua a differenza di quanto si possa pensare questo scontro va avanti anche per un bel po' di tempo sembra che i due quasi si equivalgano per quanto riguarda i poteri però è chiaro Cooler forse effettivamente ha una marcia in più dovuta anche alla sua trasformazione che parliamoci chiaro Freezer purtroppo non ha quindi questo lo mette in una condizione almeno apparente di vantaggio nei confronti del fratello e proprio per questo motivo sembra che Freezer incomincia ad accusare sempre di più la situazione sembra che forse non riesca a reggere quello che è lo scontro nonostante ora come ora si stia mostrando davvero molto potente ma da come notate il suo vigore sembra calare sempre di più sembra non riuscire quasi più a tenere testa quello che è suo fratello e prova in tutti i modi a colpirlo e a metterlo in seria difficoltà mentre ovviamente il loro padre King Cold si dispera vedendoli eliminarsi l'uno con l'altro però proprio in quel momento quando forse uno dei due sta per prevalere gli chiede di non eliminare il fratello e forse ragazzi un'idea di quello che sta per succedere ce l'avete e come proprio nel momento in cui il nostro potentissimo Cooler sta per sperare una supernova incredibile per distruggere Freezer King Cold gli chiede assolutamente di fermarsi e magari imprigionare Freezer in modo che forse in modo che egli forse un giorno possa guarire da quella follia Freezer quindi è completamente impazzito e per molto tempo è stato rinchiuso nella prigione nelle vere e proprie segrete della navicella di King Cold e Cooler ed è proprio qui che ci ricolleghiamo a Dragon Ball F poiché da come sappiamo il nostro potentissimo Freezer era ancora rinchiuso in cella e i guerrieri Z in maniera del tutto inconsapevole sono andati a liberarlo ma per quale motivo in Dragon Ball F Cooler ha detto a tutti i guerrieri Z che suo fratello era buono? Beh possiamo definire Freezer come una sorta di arma segreta un combattente ormai folle completamente spietato che magari nel corso di una battaglia avrebbe potuto aiutarli Freezer quindi possiamo definirlo come una sorta di asso nella manica di Rick Cold e di suo fratello Cooler quando entrambi sarebbero stati sconfitti Freezer sarebbe potuto scendere in campo cosa ne pensate quindi di questa storia di conquista dell'universo da parte di Cooler e Freezer? è chiaro ci sono solo avvenimenti principali ho ristretto molto la storia avrei voluto farla molto ma molto più estesa con tanti più dettagli però il tempo che abbiamo per ogni singolo video è un po' limitato non mi va di fare video da mezz'ora che ad un certo punto potrebbero anche un po' annoiare mi raccomando quindi iscrivetevi al mio canale youtube cliccando qui al centro guardate altri video presenti qui a destra e sinistra e vi ricordo che domani arriverà un video incredibile con Francesca e domenica un nuovo episodio di Dragon Ball Air quindi alla prossima ciao ciao